Bentornato Goodler, bentornata. Oggi andiamo a riprendere un qualcosa già trattato in precedenza parlando di Cortana, ma in realtà andiamo a descrivere le impostazioni, quindi non il funzionamento dell'assistente vocale. Già avevamo dato una descrizione appunto sulle funzionalità di Cortana nella lezione 179 e il suo video, ma dopo gli aggiornamenti importanti la Microsoft ce l'ha presentata nella sezione impostazioni con un pulsante dedicato. Andiamo a vedere cos'è questo pulsante. In realtà va a gestire le impostazioni dell'assistente vocale digitale di Windows 10. Lo scopo di Cortana è aiutarti, ricordiamo, nell'uso del PC o dei dispositivi per le attività quotidiane. Per accedere naturalmente vai direttamente dalle impostazioni. Nella sezione dedicata troverai il pulsantone omonimo. Se non è presente vuol dire che devi aggiornare il sistema operativo almeno alla versione 1709. Ecco qua il pulsante mostrato nella sezione impostazioni. Ricordo che in questo caso non interagirai direttamente con l'assistente, ma andrai ad impostare e settare alcuni suoi parametri. Ricordo che per interagire immediatamente con l'assistente puoi individuarlo nella barra delle applicazioni. Se la sua icona non è nascosta troverai appunto Cortana pronta per le tue ricerche o azioni. Entrando invece nella sottosezione dedicata troverai questi pulsanti parla con Cortana, autorizzazione e cronologia, notifiche e altri dettagli. Dalla prima sottosezione puoi testare le funzionalità del microfono che interagirà con Cortana cliccando su controlla il microfono appunto. Se non funziona inizierai una procedura guidata che ti permetterà di settare lo stesso ed eventualmente risolvere problemi dedicati al microfono. Windows ti guiderà in questo. Con il cursore e Cortana abilitato l'assistente risponderà se pronuncerai appunto la frase e di Cortana. Ciò è utile se non ti trovi al pc e vuoi comandarlo a distanza. L'alternativa se sei al computer invece è attivare il cursore di scelta rapida che ti consente di interagire con l'assistente se premi la coppia dei tasti Windows PC. Cortana può essere anche attivo dalla schermata di blocco del sistema operativo sempre che tu abbia attivato il cursore relativo che è questo evidenziato. Un segno di spunta può consentire anche a Cortana di accedere ad alcuni programmi installati come al calendario, le mail, le messaggi eccetera per poter pianificare, leggere e inviare i dati sempre a distanza. La sottosezione lingua di Cortana ti evidenzia la lingua che utilizzerà l'assistente ovviamente nel nostro caso italiana. La sottosezione autorizzazione e cronologia è importante per le autorizzazioni che concederai all'assistente in termini di operazioni che puoi eseguire o informazioni a cui accedere, quindi dargli una letta prima di selezionare eventualmente i cursori. Questi consori ti consentiranno appunto di abilitare o meno l'accesso ad esempio a posizione, contatti, email, comunicazioni e cronologie varie sempre più penetranti. Puoi rendere sicure le tue ricerche filtrando con tre opzioni le stesse. Completa che escluderà tutte le categorie e informazioni e contenuti che sono riservate agli adulti, quindi molto sicura. Moderata escludendo solo foto e video ma permettendo invece la visualizzazione di informazioni di testo particolarmente riservate quindi ad un pubblico adulto oppure senza filtro per includere tutti i contenuti, anche quelli dedicati agli adulti. Potrà includere che le tue ricerche avvengono anche tramite contenuti presenti negli harddischi virtuali a cui sia connesso OneDrive, Google Drive, Dropbox e così via. Abilitando il cursore cronologia migliorerai le tue ricerche nel tuo dispositivo il quale attingerà a tutte le applicazioni e dispositivi che utilizzi normalmente integrandoli tra di loro. Il pulsante subito sotto cancella la cronologia nel tuo dispositivo in uso, quindi solo nel dispositivo che sta utilizzando Windows 10. La sottosezione notifiche può abilitare lo scambio di notifiche tra i vari dispositivi che utilizzi. Esempio una notifica chiamata messaggi o notifica di applicazioni come Telegram che parte dal tuo smartphone può essere visualizzata sul tuo pc mentre stai utilizzando quest'ultimo senza che andrai a leggerlo sullo smartphone. Un eccellente metodo quindi di distrazione mentre svolgi altri compiti. L'ultima sottosezione ti consente di informarti sulle caratteristiche di Cortana e sulla gestione della privacy rimandandoti alla consultazione del sito della Microsoft. Altra possibilità entrare nei settaggi della privacy che invece abbiamo visto nella lezione 188 e relativo video tutorial. Eccoci di nuovo in zona pratica, andiamo a vedere dove andare a settare le impostazioni di Cortana. Qui bel pulsantone e avrai mostrate le opzioni. Con questo pulsante potrai controllare la funzionalità del microfono. Quindi potrai chiacchierare con Cortana vedendo se funziona il microfono altrimenti potrai entrare nelle impostazioni per migliorare il tutto. Attivando questo cursore potrai permettere a Cortana di risponderti e quindi entrare in azione quando la chiamerai con Hey Cortana. Ovviamente ha bisogno di autorizzazioni per poter accedere a queste informazioni. Quindi dovrai cliccare su certo in questo caso. A questo punto potrai abilitare il cursore e potrai intervenire con le funzionalità di Hey Cortana. Ti ricordo che è necessario accedere a Cortana accedendo al sistema operativo tramite l'account Microsoft. In questo caso potrai chiamarla ed entrare in azione. Questo segno di spunta impedisce al dispositivo quindi di andare in sospensione mentre è collegato anche se non stai utilizzando il computer. Qui un segno di spunta che ti permette appunto di attivare Cortana semplicemente chiamandola e anche un settaggio della voce sulla pronuncia di Hey Cortana. Alternativa alla chiamata di Hey Cortana è la coppia di tasti Windows C. Attivandolo ti permetterà di abilitare Cortana senza chiamarla. Ecco il risultato. Dopo la pressione, se attivo puoi anche utilizzare Cortana durante la schermata di blocco quindi potrebbe essere utile e qui andrai nella sezione delle impostazioni della schermata di blocco che già abbiamo visto in un'altra lezione. Questo segno di spunta permette appunto di far accedere a Cortana ad alcuni programmi gestiti all'interno di Microsoft e qui ti evidenzia la lingua attualmente in uso di Cortana. Seconda sottosezione, autorizzazione e cronologia. Qui puoi gestire le operazioni che può seguire Cortana e anche le informazioni a cui può accedere. Tramite questo pulsante potrai entrare nella ulteriore sottosezione che ti permette di evidenziare a quale informazioni può accedere Cortana. La posizione se lo attivi, cronologia, contatti, email, calendario e comunicazioni oppure cronologia nelle esplorazioni. Leggi queste note prima di attivare eventualmente l'impiego di Cortana che attinga a queste informazioni. Qui il tipo di ricerca dedicata a informazioni e contenuti multimediali per adulti. Hai una esclusione completa di foto, video e risultati testo per quel che riguarda informazioni per solo adulti. Con il segno di spunta su moderata potrai escludere video immagini ma otterrai comunque informazioni scritte oppure completamente senza filtro. In questo caso includerai tutti i contenuti anche per gli adulti sia testo sia immagini sia video. Quindi a secondo dell'utilizzo del tuo computer se dedicato ai bambini potrai mettere anche questo segno di spunta o altrimenti moderata. Decidi tu in base all'utilizzo. Potrai attivare o meno che le ricerche che eseguirai potranno avvenire all'interno anche dei tuoi archivi virtuali sotto un altro segno che permette di migliorare le ricerche se attivato per poter andare ad individuare la cronologia dell'utilizzo tra tutti i dispositivi a cui accederai. La sottosezione notifiche ti permette di abilitare o meno le notifiche da dispositivi mobili fino al computer direttamente senza abbandonare la postazione pc. In questo caso dovrai accedere all'account Microsoft e fornirli una connessione ad internet. Tramite questo pulsante potrai ottenere l'applicazione di Cortana per dispositivi mobili quindi smartphone. Ultimo pulsante altri dispositivi ha dei pulsanti che ti permettono di andare ad individuare sul sito della Microsoft tutte le informazioni che la stessa prende in considerazione per la tua privacy tramite i tuoi dispositivi. Il primo e l'ultimo pulsante ti rimandano al sito della Microsoft. Questo pulsante opzioni di privacy di Windows ti rimanda a una sezione che già abbiamo consultato nella quale potrai in maniera granulare gestire le impostazioni del sistema operativo in relazione a hardware e software di Windows 10. Ok nella prossima lezione ancora informazioni su Windows 10. Ora con sempre un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima!